C'è il gol al sesto minuto di Hernandez, ha il vantaggio dei padroni di casa. Ancora il numero 4, il tutto mancino, bello il passaggio sul secondo palo per il nuovo entrato Daniel Pego, è 2-0 dell'Active Network. Ancora Sanchez, Hernandez questa volta ha giusto sul lato sinistro, probabilmente per dentro, per Sosa, altro assist di Hernandez, questa volta sul secondo palo c'è Sosa, è 3-0 dell'Active, timeout per la Ranova. Boccato su Banda, serie di finte, palla fuori, ancora per Hernandez, dentro ancora, per il numero 4 salvataggio sulla linea. Serie di numeri del 10 maglia orange, ancora Diego Lopez, non c'è fallo di intranare Diego Lopez, c'è il 5-0 dell'Active Network. Goal di Hernandez, doppietta per lui, ma gli arancioni. Diego Lopez, serie di finte, palla sul secondo palo, si divora il gol, Hernandez. Keita, può rischiare l'uno contro uno, eccolo ancora Keita, salta anche il portiere, linea di fondo per il numero 8 che la mette dentro, c'è la tripletta di Hernandez, è il 6-0 dell'Active Network, tutto il merito del gol, però, per Keita.